Buongiorno players e benvenuti in questo nuovo video e in questo video voglio parlarvi di un argomento molto importante quando si tratta di relazioni ossia come creare attrazione arrivando a diventare una vera e propria calamita per le altre persone attenzione però qui non sto parlando di attrazione fisica quindi non starò qui a dirvi quanti addominali dovrete fare in palestra o quali interventi chirurgici dovete mettere in preventivo per riuscire a conquistare la persona che vi piace oggi vi parlerò di che cosa implementare all'interno della vostra vita e del vostro modo di comunicare per riuscire a generare una vera e propria attrazione mentale quindi players cominciamo se questa fosse la prima volta che mi vedi io mi presento sono Kita e insieme a Gianni abbiamo creato Social Players una community fatta di persone che desiderano migliorare il proprio lato sociale e sentimentale sia dal vivo che in chat e ogni giorno aiutiamo i membri della nostra community attraverso i contenuti gratuiti come quello che stai vedendo tu adesso in questo momento e attraverso le nostre consulenze e i nostri eventi dal vivo per chi desidera conoscere delle strategie più avanzate e vive delle esperienze uniche nel loro genere se ti interessano questi argomenti e ancora non li hai fatto iscriviti al canale perché tanto è gratis come al solito mentre invece qualora volessi conoscere quelli che sono i nostri corsi, le nostre consulenze, i nostri percorsi eccetera 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 clicca sul link nella descrizione del video che lì troverai tutte quante le informazioni o in evenienza contattaci in privato su Instagram e adesso veniamo al topic di oggi come creare attrazione ok allora se hai già guardato l'altro video che ho fatto in merito a questo argomento adesso saprai già che per riuscire a generare attrazione tutto ciò che dobbiamo fare è avere una personalità attraente al di là delle frasi che possiamo dire al di là delle battute che possiamo copiare al di là dei messaggi preconfezionati che possiamo provare a riciclare tutto ciò che ci serve è riuscire a diventare noi in primis assieme alla nostra personalità più attraenti ma facciamo un passo indietro la nostra personalità che cos'è? è l'insieme delle emanazioni che noi rilasciamo quando comunichiamo con le altre persone che sia dal vivo o che sia in chat e inoltre è l'insieme delle percezioni che le altre persone hanno di noi di conseguenza ci saranno persone che penseranno wow Kit è davvero un esperto quando si parla di relazioni oppure Kit è un ragazzo che ci sa proprio fare in chat o anche Kit è davvero quell'amico che ti aiuta con tutto il suo cuore quando hai delle problematiche in ambito sentimentale e la verità è che tutte queste affermazioni sono vere ma dobbiamo avere il controllo di queste emanazioni e di queste percezioni tutte queste cose vengono determinate da quegli atteggiamenti che noi attuiamo e la migliore strategia che oggi stesso puoi attuare tu per rendere la tua personalità più attraente è quella di avere ben chiaro nella tua mente quello che è il tuo frame che cos'è il frame? beh, conta che su questo argomento si potrebbe aprire tutto un capitolo a parte infatti con le persone che seguiamo nei nostri percorsi ci concentriamo in maniera davvero approfondita su questo concetto però ti basterà sapere che il frame non è altro che il nostro sistema di credenze che noi possediamo al nostro interno e che vogliamo trasmettere alle altre persone più la consapevolezza del nostro valore e del nostro sistema di credenze è forte e ben definito più sarà alta la nostra capacità di generare attrazione nel momento in cui andiamo in un contesto sociale come potrebbe essere ad esempio una discoteca o nel momento in cui andiamo a messaggiare in chat su Instagram o su Tinder dobbiamo stare molto attenti alle credenze che comunichiamo dobbiamo iniziare a chiederci chi sono, che cosa voglio essere, cosa voglio comunicare qual è il mio ideale di persona che desidero accanto a me quali sono le mie credenze, quali sono le sue credenze quali sono le credenze che condivido con questa persona e che se le inizio a citare questa persona proverà empatia nei miei confronti quando ad esempio ho aiutato Giacomo un ragazzo che ha intrapreso un percorso con noi qualche anno fa mi ricordo che lui voleva sì imparare a riuscire a conoscere nuove ragazze ma soprattutto essere colui che nelle relazioni sceglieva e che poteva permettersi di scegliere e il suo obiettivo non era tanto quello di riuscire ad andare a letto con mille donne voleva semplicemente acquisire la capacità di crearsi costantemente nuove occasioni arrivando a diventare quella persona che era in grado di arrivare a conquistare una ragazza compatibile con lui e quindi da lì siamo partiti con lavorare sul suo frame e quindi ci siamo chiesti quali sono le credenze di Giacomo quali sono quelle credenze di Giacomo che noi possiamo andare a potenziare fino al punto in cui quando lui arriverà a portarle fuori nelle sue conversazioni risulterà estremamente attraente e tra queste ne abbiamo trovate diverse potremmo ad esempio dire che le persone del sud hanno una marcia in più e che non importano le difficoltà che la vita ti pone davanti ogni singolo giorno la gente del sud sa arrangiarsi e sa trovare delle soluzioni ad ogni situazione oppure ancora siamo partiti da un'altra credenza fondamentale i bravi ragazzi non sono degli sfigati i bravi ragazzi possono ottenere successo nelle relazioni e non per forza devi essere uno stronzo per riuscire a conquistare una ragazza oggigiorno ovviamente in questo caso specifico stiamo parlando di Giacomo che è un ragazzo con origini del sud e che di indole era appunto un bravo ragazzo ma tu puoi fare la stessa identica cosa con il tuo sistema di credenze andandola a potenziare esponenzialmente e iniziando a trasmettere la tua personalità in maniera attraente perché ciò che voglio farti passare come concetto in questo video è che iniziare a comprendere quello che è il proprio valore e le proprie credenze andandole poi a potenziare ci aiuta a costruire una comunicazione iper efficace una comunicazione che quando viene sentita e ascoltata dalle altre persone crea quel senso di wow questa persona è veramente forte ed è da qui che nasce l'attrazione te lo ripeto player nel momento in cui riusciamo a comprendere quello che è il nostro valore e il nostro sistema di credenze ci basterà solamente arrivare a potenziarlo e a portarlo fuori correttamente nelle nostre conversazioni siano esse dal vivo o in chat infine se ti interessano questi temi mi raccomando come sempre di iscriverti al canale se ti interessa approfondirli ancora di più magari in maniera specifica iniziando anche tu un percorso assieme a noi contattaci in privato su instagram o in evenienza scopri tutte le informazioni guardando sul nostro sito se il video ti è piaciuto mi raccomando di lasciare un bel mi piace qui da social prese è tutto io sono Kita e come sempre ci vediamo nel prossimo video bella e come sempre ci vediamo nel prossimo video e come sempre ci vediamo nel prossimo video